buongiorno a tutti ecco la parete attrezzata modello plan 27 questa composizione ha una larghezza in questa configurazione di 336 centimetri vediamo come composta abbiamo una prima parte dedicata alla tv e all'intrattenimento che è larga 128 centimetri ricordiamo la modularità base della collezione plan è 16 centimetri quindi noi possiamo avere il 32 il 48 64 96 e in questo caso c'è poi 128 in questo caso 144 base tv h24 quindi particolarmente sollevata da terra vedete in questo caso sono circa un 35 40 centimetri da terra e si usa il 24 che comunque una volta e mezzo il modulo di base che i 16 centimetri in appoggio su questa base comunque fissato a muro quindi in appoggio a livello visivo abbiamo questa boserie che poi prosegue sotto alla parte alla parte successiva lateralmente vediamo un elemento da 128 ok con appunto uno schienale che compenetra su questa sezione di 64 centimetri ok qui abbiamo lasciato il muro a vista e sopra abbiamo tre pensili da 64 allora questa è una composizione 64 di larghezza scusate anche se altezza 64 è una composizione volutamente asimmetrica appunto con dei volumi che si compenetrano sono è una composizione piuttosto semplice in fondo abbiamo due basi 144 più 128 il lo schienale 144 più 64 e poi abbiamo i tre pensili da 64 quindi un tale di 192 e che gioco si va a creare si vanno a creare un gioco di vuoti e pieni tale per cui a parte il fatto che sollevata da terra questa parte della parete è libera e potrei metterci delle mensole potrei metterci magari un bel quadro orizzontale appunto decorazione come anche libera questa parte dietro al questo elemento contenitore e potrebbe essere per esempio usata per far uscire delle prese magari che vanno alimentare uno stereo o altri oggetti per l'intrattenimento per carità le prese le potrei far uscire anche dal pannello ma ovviamente è più semplice più comodo farlo uscire direttamente a muro e poi ho quest'area vuota dove potrei avere un vaso decorativo potrei mettere una cesta con la legna per il camino potrei mettere un subwoofer cioè quindi uno spazio che o con elementi funzionali l'esempio del woofer o con un elemento decorativo come un bel vaso con magari con dei fiori secchi vado a usare questo spazio nel senso buono del termine parlando degli elementi specifici vediamo entriamo nel dettaglio delle aperture abbiamo qui la base tv che è fatta con un elemento a ribalta a sua volta diviso in due all'interno ok poi abbiamo l'elemento cestone in questo caso e questa è una configurazione tipica nel senso che quando ho una composizione giorno è abbastanza normale il fatto di avere una parte con la ribalta tipicamente quella votata all'intrattenimento diciamo hi fi e così via una parte cestone cassetti e non è il caso di questa composizione anche magari una parte ad antine poi abbiamo i pensili questi sono i pensili display sono caratterizzanti perché sullo stesso elemento pensile unisco una parte chiusa e una parte a giorno quindi il pensile in sé è largo 64 centimetri con un lato da 32 e un lato da 32 a giorno il 32 a giorno è caratterizzante perché c'è questa fascia fissa non apribile che nasconde un led questa è una cosa che ho citato altre volte è una soluzione illuminotecnica molto bella perché io vedo la luminanza all'interno del vano a giorno ma non vedo il led stesso e quindi non ho una situazione di abbagliamento attenzione per esempio dalla posizione in cui sono io adesso vedo perfettamente i led e quindi da questa posizione potrei essere se li fisso con attenzione potrei essere tra virgolette abbagliato però già in una posizione di questo tipo io led non lo vedo più e godo invece del vano illuminato senza vedere il corpo illuminante questi pensili sono interi allora qui li abbiamo messi tutti e tre sinistri quindi con tre antine sinistre ok in realtà in realtà sono anche carini lo vedete poi in galleri quando li vado a porre alternati e quindi magari immaginate che anziché fare una composizione dove mi sviluppo in orizzontale vada a svilupparmi in verticale per esempio io potrei mettere al di sopra di questo elemento ne metto un altro che ha il vano a giorno qui a sinistra e l'antina qui a destra e quindi ho questa alternanza tra fascia vano a giorno anta e di cui avrò fascia vano a giorno anta magari la stessa una situazione diversa comunque fatta con tre pensili dove faccio un sinistro un destra un sinistro e così via viene molto bene e lo potete vedere in galleri parlando di finiture allora questa è una composizione laccata lucida laccata lucido poliestere tipico della serie plan questo è il colore nude che è un alcuni che potrebbero definire rosa antico c'è un color carne devo dire che è un rosa molto raffinato a me piace anche se bisogna ammettere che ha una componente di beige piuttosto pronunciata e quindi in fondo forse anche la mia definizione di rosa impropria infatti correttamente è stato dato un nome caratterizzante come nude la serie plan può essere realizzata ovviamente laccato lucido come vediamo qui ma anche laccato opaca in legno di rovere tinto in vari colori fashion wood e poi in un'ampia gamma di laminati vi faccio notare un particolare molto carino di questi elementi a giorno perché viene usato un nobilitato decor che viene laccato un nobilitato effetto legno con una texture gradevole che viene laccato con lo stesso color in questo caso che è stato scelto per la struttura i pannelli in questo caso sono stati realizzati con il nobilitato gure che questo nobilitato effetto tessuto molto particolare non ha una gamma cromatica ampia cioè c'è questo colore però è un colore un grigio beige che sta bene veramente in tante situazioni e qui una chicca devo citare perché questo è un nobilitato effetto tessuto che ha il suo corrispettivo in tessuto qui vediamo la poltrona coordinata che è la janet ok che ha un tessuto che riprende lo stesso decoro la stessa texture del nobilitato gure è un'applicazione rara tra virgolette perché appunto abbiamo un tessuto che si abbina a un nobilitato però è certamente gradevole e visto che peraltro è un tessuto nobilitato che si abbina in tante situazioni rara ma non rarissima mettiamola così quindi chiudiamo con una visione insieme di questa di questa parete attrezzata che attenzione l'abbiamo definita come molto semplice ma vuole essere un esempio delle n composizioni che si possono andare a fare perché in fondo non voglio svilirla ma qui ci sono due basi tre pensili e un pannello composto da due parti proprio perché sono pochi elementi il paradosso qual è proprio perché sono pochi elementi li posso ricombinare ampliare accorciare veramente in tanti modi e quindi quando parliamo di pareti attrezzate come sempre dobbiamo ricordare che non stiamo proponendo barra vendendo la specifica parete attrezzata ma stiamo mostrando un esempio di quello che si può fare a livello progettuale lavorando bene tra cliente e arredatore parete attrezzata plan 27 7